Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, io sono Valentina Cerriotti, a novembre mi sono laureata in Economia e Management all'Insubria e attualmente frequento il corso di laurea magistrale in Economia e Diritto d'Impresa. Nonostante all'inizio non fossi sicura della mia scelta, ad oggi quello che posso dirvi è che se tornassi indietro non cambierei niente. Infatti, quando ho dovuto scegliere dove continuare il mio percorso accademico, ho scelto l'Insubria proprio perché mi ha permesso di crescere professionalmente dal punto di vista personale. L'Insubria è un'università giovane e piccola, ma questo non è sinonimo di svantaggio. Infatti, la professionalità, la serietà dei professori e l'ambiente accademico ristretto fanno sì che essa cresca insieme ai propri studenti. Per me l'Insubria è stata una grande scoperta, spero possa esserlo anche per voi.